Matteo Salvini torna a ribadire l'importanza che la riforma delle pensioni ha per la Lega e annuncia un tavolo a ottobre. Matteo Salvini torna a ribadire l'importanza che la riforma delle pensioni ha per la Lega che ha promesso di presentare prossimamente una propria proposta in materia. In questo momento lo Iuso soli non è un'esigenza, Letta cerca nuovi voti, nuovi elettori, visto che sono sempre meno gli italiani che li votano. Ad ottobre facciamo un tavolo sul lavoro e le pensioni che penso interessino di più i cittadini italiani e stranieri regolarmente residenti in Italia. Ha detto il leader della Lega, secondo quanto riporta il secolo d'Italia, ospite della trasmissione «Zona bianca», in onda su Rete 4. Il carroccio deve intanto fare i conti con le richieste che arrivano dagli altri partiti della maggioranza sulle dimissioni di Claudio Durigon, il sottosegretario all'economia che il sole 24 ore spiega essere stato ribattezzato «l'uomo delle pensioni», visto che è stato tra i protagonisti della misura nota come quota 100. Più recentemente si è anche battuto per l'estensione del contratto di espansione e aveva incontrato i sindacati proprio in vista della proposta della Lega sulla riforma delle pensioni post-quota 100. Come riporta il sole 24 ore, nel report la previdenza complementare. Principali dati statistici La COVID-19 rileva che, a giugno i risultati dei fondi pensione sono stati media positivi, soprattutto per le linee di investimento caratterizzate da una maggiore esposizione azionaria. Al netto dei costi di gestione della fiscalità, infatti, i rendimenti si sono attestati, rispettivamente, al 2,7% e al 3,9% per fondi negoziali e fondi aperti. Nei PIP di ramo terzo sono stati del 6,6%. Per le gestioni separate di ramo i che contabilizzano le attività a costo storico e non a valori di mercato e i cui rendimenti dipendono in larga parte dalle cedole incassate sui titoli detenuti, il risultato è stato pari allo 0,7%. Complessivamente, da inizio 2011 a fine giugno 2021, il rendimento medio annuo composito è stato pari al 3,7% per i fondi negoziali, al 3,9% per i fondi aperti, al 3,8% per i PIP di ramo terzo e al 2,3% per le gestioni di ramo i. Nello stesso periodo, la rivalutazione del TFR è risultata all'1,9% annuo. Nello stesso periodo, la rivalutazione del TFR è risultato all'1,9% per i fondi negoziali, al 4,5% 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 per i fondi negoziali.